Salve amici del Centro Medio Italiano, una nuova perturbazione si avvicina da Ovest portando piogge in Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 15 novembre. Precipitazioni sparse al mattino al nord-ovest, anche a carattere ritemporale sulla Liguria, neve oltre 1300 metri sulle Alpi e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione al nord-est e alla Toscana generalmente di liebole o moderata intensità, più stabile altrove con maggiori schiarite al sud. In serata notata peggioramento che interessa buona parte del centro nord con piogge, acquazzoni diffusi e neve sulle Alpi occidentali a quote medio-alte, temperature minime, massime e stabili o in lieve calo soprattutto sulle regioni del nord. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che la nostra app Meteo. Un saluto da parte del centro medio-italiano.